Che cosa ti porti in Irlanda? Il semestre universitario all'estero. Beckett Rush. Ero riuscito a starmene tranquillo fino ad ora. Che cosa ci fai qui? Freddo! Mi fermo qualche mese per le riprese del film. Che bello averti con noi. Gestiamo un bed and breakfast. Ti spiacerebbe portarlo al signore che c'è di là? Mi stai stalkerando? Che ci fa Beckett Rush in sala da pranzo? Che cosa? Nora, tesoro. Potrei avere della marmellata, per favore. Ma certo, caro. Sto cercando qualcosa di autentico. Allora sarò la tua guida personale. Fidati di me. Non mi fido. Non sei niente male quando decidi di divertirti. Ma tanto non ci piacciamo nemmeno. Siamo troppo diversi. Non sa nulla della nostra vita. Sta vivendo due vite e non sa decidere quale vuole davvero. Devi solo fidarti di me. Ci ho provato. Ma ricorda, non smettere mai di crederci. La felicità arriva all'improvviso. La felicità arriva all'improvviso. La felicità arriva all'improvviso. La felicità arriva all'improvviso. La felicità arriva all'improvviso.